Miei carissimi milanesi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con il nostro podcast, la nostra trasmissione, ma soprattutto con una carissima milanese che è venuta a trovarci, perché lo sapete, ve l'ho già detto, milanesi si nasce, va bene, lo si diventa se si vuole diventarlo, e quindi molti decidono, anche se contro il loro volere a volte però, di essere dei milanesi, e chiunque viene in questa città e fa in questa città grandi cose, per noi è un carissimo milanese. Sigla. Miei carissimi milanesi, diamo il benvenuto a Miriam Falco. Buongiorno. Buongiorno Miriam. Allora, lascio a te la tua presentazione, come vorresti, perché insomma tanti giornalisti ti intervistano, con tante tarabianche, giustamente, aggiungo io, perché insomma, come vorresti che sia presentata Miriam Falco? Vabbè, in quanto ultima generazione preferiamo cittadine e cittadini, perché siamo delle persone semplici, ognuno con il proprio lavoro, con la propria vita, le proprie famiglie, e non siamo eroi, non siamo disadattati, non siamo nulla di questo, siamo persone normali, che preoccupate, preoccupati per quello che sta succedendo, e purtroppo abbiamo iniziato quando gli eventi estremi ancora non erano così frequenti, e lì era più facile, insomma, prendersi gli insulti. Però adesso che invece gli eventi frequenti stanno aumentando tantissimo, è sotto gli occhi di tutti che ci sono nuvi fragili, Milano ne sta risentendo tantissimo, in generale l'Italia ne risente molto di più degli altri paesi europei, perché siamo nel Mediterraneo, il Mediterraneo purtroppo tende ad avere più un clima tropicale, equatoriale, e quindi eventi estremi lo stiamo vedendo. E' parlato appunto di ultima generazione, no? Questa comunità mi verrebbe da dire ormai, perché ovviamente siete tanti e tantissime che in tutta Italia appunto cercate di sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e portate anche varie proposte, perché una cosa interessante è quella. Un po' però dividete l'opinione pubblica sui metodi della vostra protesta. Che cosa non si riesce a capire secondo te? Di che cosa significa magari per delle giovani ragazze? Dei giovani ragazzi mettersi in mezzo alla strada a fermare il traffico, incollarsi a uno stand in lane? Ma arrivati a questo punto io penso che, visto che comunque le persone che ci sostengono aumentano sempre di più, riceviamo donazioni, sempre più persone si uniscono per dare una mano, arrivato a questo punto io penso che ci sia proprio un'intenzione nel descrivere una frustrazione ai nostri confronti che però in realtà è molto limitata a quell'un per cento di persone che effettivamente non ci sopportano, però poi c'è tutto uno spazio di persone che invece ci accoglie, ci sostiene, magari non è d'accordo con quello che facciamo, ma perché quello che facciamo è polarizzante, è voluto che sia così. Però comunque si comprende perché si fa, è come non comprendere una persona che prende il volante con il padre ubriaco per esempio e lo prende perché… E sterza prima del diruppo. Sì, nel senso anche se non ho la patente, faccio una cosa illegale, prendo il volante e mi salvo la vita. Stavo raffreddendo che molti di quelli che vi vengono conto, vi danno conto su queste iniziative, sono gli stessi che poi nel 68 bruciavano roba in piazza e alzavano la folla. Com'è questa storia? No, in realtà ci sono persone che veramente non ce l'aspettavamo che ci venissero contro, altre che invece ce l'aspettavamo. C'è che ti ha fatto più male a venirti conto, a venire con te Miriam, immagino poi. Ma non verso di… cioè nel senso non per la persona in sé, ma per quello che rappresenta, Bonelli dei Verdi, cioè che proprio capisci che quella persona è lì non perché ha un reale interesse per quello che è un interesse comune, ma probabilmente per un interesse privato. Invece che non ti aspettavi che dicesse, oi bravi questi qui di ultima generazione? Ma forse Cruciani non mi aspettavo che dicesse che siamo dei moderati e che… Se l'abbiamo seguita l'intervista, non è proprio un'intervista moderata quella che avete fatto. No, 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 non è un'intervista moderata, però comunque c'è confronto, cioè con Cruciani almeno c'è un confronto. E tra l'altro lui ha detto chiaramente che non bisogna essere violenti nei nostri confronti e questa è una posizione importante che abbiamo molto apprezzato. Tu sei a Milano da sette anni, no? Sei venuta qua per studiare, giusto? No. No, no, avevi già finito? Avevo già finito la prima laurea, poi ho preso una seconda laurea quando sono venuta qui alla Statale. No, sono venuta per amore in realtà, perché avevo conosciuto un ragazzo milanese, Doc, in realtà mezzo un grese, mezzo milanese, e ci siamo innamorati, io vivo a Barcellona, e niente, abbiamo fatto due anni a distanza, io a Barcellona, lui a Milano, e poi mi sono trasferita a Milano. La storia d'amore è finita, però io sono rimasta… Ma sei rimasta milanese, però, hai fatto questo regalo, ti ha fatto, dai. Che città hai trovato quando sei arrivata qua? Era una città che ti aspettavi o una città diversa da quella che avevi nelle tue aspettative? Allora io… O l'amore fuscava tutto? No, no, allora io in realtà avevo… I miei genitori si sono conosciuti a Milano, napoletani che sono venuti qua a lavorare negli anni Ottanta per… in scuola, alla scuola, per fare gli insegnanti, e sì, si sono conosciuti a Milano e quindi mi raccontavano di questa Milano molto… Beh, la patria dell'editoria, quindi una Milano in cui appunto si usciva e c'erano mille cose da fare molto interessanti. si andava comunque lì al barbasso… Ah, vedo che le sai le cose da milanese doc… Bene, bene, ottimo… Poi vabbè, loro hanno scelto per il clima di tornare a Napoli e io sono cresciuta a Napoli, però comunque avevo un'idea di Milano un po' romantica così. Devo dire che quando sono arrivata c'erano ancora molte cose interessanti. io ho fatto parte di un giornale, c'era… cioè molto, molto… Raccontiamo l'esperienza dello sbuffo, dai, raccontiamola, lo conosco, lo conosciamo bene, lo conosciamo bene. Alcune, molte ragazze che sono passate da qui dalla redazione di Milano News arrivano dall'esperienza dello sbuffo, quindi è stata una cosa interessante, no? Sì, sì, assolutamente. È stata una bellissima esperienza che rappresenta molto Milano, no? Andrea Bellandi, il fondatore, un ragazzo semplice che fonda una cosa e che comunque funziona. Sì, l'ha fatto la capoarea di tutto ciò che era la parte più di scienze sociali, neuroscienze. Avevamo anche una rubrica con Tlonna, la casa editrice Tlonna, quando ancora nessuno la conosceva. E nulla… no, è stata un'esperienza molto interessante che rappresenta molto Milano, secondo me, la voglia di fare le cose. Questi studenti, queste università che invadono Milano, perché Milano, ricordo sempre, è la più grande città universitaria d'Italia per il numero di studenti e il numero di facoltà. Però, quando tu parli di Milano, l'ultima cosa che viene in mente è che sia una città universitaria. Non sono purtroppo abbandonati a se stessi? Oppure invece in realtà vivono un mondo parallelo di cui noi, magari più anziani, non siamo a conoscenza? Beh, è una domanda difficile, nel senso che per me la Statale è stata un'esperienza bellissima. Ho conosciuto dei professori che ho amato tantissimo che mi hanno dato tanto, anzi è stata anche pubblicata la mia tesi magistrale in un libro, cioè mi è stato dato tanto riconoscimento, quindi vabbè, io ho una visione un po' forse di parte, per me è bellissima l'università a Milano, quindi non so. Però, cioè, io sento un grande fermento all'interno delle università, sì. È un fermento che magari sarebbe interessante anche che la città percepisca, capisca e magari, insomma, facciamoci anche influenzare da questo fermento che sarebbe interessante. Poi c'è l'orchestra, l'università statale. Ah, cos'è? L'orchestra, l'orchestra? Sì, è un'orchestra sua, fanno i concerti gratis di musica classica, cioè per me è una cosa stupenda, io sono appassionata di musica classica, cioè poter andare lì gratis, mi sembra un mondo bellissimo. La tua, è qui complicato trovare la parola giusta, la passione per l'attivismo direi che non esiste, cioè non è la passione per l'attivismo, cioè necessità forse, la tua necessità verso soprattutto il tema ambientale e climatico, quando nasce e come? Mia madre mi racconta sempre che quando ero piccola le dicevo perché abbiamo due case, perché i miei erano separati, avevamo due case e dicevamo perché abbiamo due case se altre persone ne hanno solo una, non è giusto così, diciamo che forse ce l'ho sempre avuto un po' spiccato il senso della giustizia. Poi sono cresciuta in una città come Napoli che è molto politicizzata perché si deve difendere comunque da quelle che sono delle ingiuste accuse che purtroppo continuano a esistere, delle discriminazioni e nulla, quindi sì è una necessità, io ho iniziato in realtà con un movimento non violento che si chiama un movimento umanista, facevamo volontariato in Africa, avevamo diversi progetti in Benen, Ghana, Burkina Faso e poi quando ho visto l'ultima generazione ho pensato sì, questa è la cosa giusta da fare in questo momento perché dopo 18 anni di attivismo posso dire che le manifestazioni, le petizioni, la sensibilizzazione, la pubblicazione dei libri che pure ho fatto perché ho pubblicato anche dei libri e purtroppo in questo momento non serve più. Cioè è questo il grande tema, io ho fatto tutto quello che si poteva fare dal punto di vista legale, però se anche sul nostro Ministero dell'Ambiente abbiamo un orologio climatico che ci dice che mancano cinque anni poi dopo non potremo più fare nulla per avere una vita dignitosa e allora non abbiamo altra scelta, quello è il problema. Ma è giusto rimandare tutto questo a quella che molti giornali chiamano ecoansia, ansia climatica, che errore c'è nel portarla su quel tema? Allora in generale come dice la murgia anche, dare un nome alle cose tende a escluderne altre e a semplificare un discorso. Non bisogna parlare di ecoansia secondo me, chi ha l'ecoansia ce l'ha, però non è che bisogna fare un discorso generico e queste persone si muovono sull'ecoansia quando fanno attivismo, anche perché l'ecoansia magari ti porta anche in depressione e la depressione invece è il contrario dell'azione, no? Quindi no, non mi va che si riduca l'ecoansia, siamo persone responsabili che si prendono in carica sulle proprie spalle anche a costo di ricevere delle denunce penali. Io ieri purtroppo parlavo con un mio amico ispettore che mi diceva guarda che se hanno intenzione di fare indagini per associazione a delinquere vi beccate tra i 3 e 7 anni di carcere, cioè che è una cosa assurda, cioè è una cosa da fascismo questo, cioè prendere una collettività di persone che stanno cercando di organizzarsi per protestare, va bene, in maniera sicuramente dura ma non come in Francia che spaccano tutto, ok? Noi siamo non violenti, prendere queste persone e denunciarle, indagarle per associazione a delinquere, per poterle mettere in galera è una cosa che reprime l'espressione e repressione e su questo io spero che nel caso accadesse, cioè ci sia un grande movimento perché non possiamo accettare di nuovo di ritrovarci nel fascismo. Oltretutto, quando dice appunto il rischio di venire in galera è reale, nel senso che appunto voi fate le azioni per cui poi appunto vi portano via, vi schedano, alcuni di voi sono finiti anche in tribunale appunto già con dei processi. La cosa che poi lascia un po' stare fatti è tutti giovani, giovanissimi. Sì, sì. Eh ma perché giustamente se la vivono ancora, cioè hanno, prima di tutto sono stati più sensibilizzati sul tema, cioè io mi ricordo che alle medie sì mi si parlava di risparmiare l'acqua, ma sembrava più una questione di principio. Invece questi ragazzi sono cresciuti comunque con il problema della crisi climatica e quindi la sento, sono molto più sensibili di persone come noi. Io ho 36 anni e vorrei un figlio, però mi sento molto la responsabilità. ok, sì, ho un marito bellissimo, sono felicissima, potrei avere un figlio, però penso ma, cioè che opportunità posso dare a questo figlio, cioè vivere in una città come Milano in cui aumenteranno sempre di più i nubi fragi, il vento a 100 km orari, oppure, cioè l'Italia comunque al 97%, il 97% dei comuni italiani sono a rischio di dissesto idrogeologico. Io adesso sto cercando di comprarmi una casa, sto vedendo sulla mappa italiana quali regioni, in quale parti delle regioni... Qual è quel 3% che si salva? Sì, esatto. Dove sei finita? In Liguria, sopra Savona. Ah, ok, esatto, insomma... Però non sulla costa, perché la costa è Liguria a rischio, no, sopra le montagne della Liguria, sopra Savona, al confine con la Francia. Granitiche, montagne che nessuno scalfirà. Questo però è un tema, appunto, il tema del fatto che c'è una generazione, che speriamo non sia l'ultima, come dite voi, ma è l'ultima in questo caso, in questo momento, che sente impellente questo bisogno e questa emergenza, anche bisogno per il proprio futuro, perché è il loro futuro che viene meno, e altre generazioni, perché non sono solo una, sono più di una, che invece fa fatica a comprendere questo tema. Perché non riusciamo a comprenderlo? Solo perché non ci riguarda così da vicino? È veramente tutto lì? No, allora, ci sono diversi studi di psicologia sociale che dicono che praticamente tu, se sei sensibilizzato al tema fin da bambino, allora è possibile sensibilizzarti, altrimenti purtroppo no. Questo discorso è stato fatto per quanto riguarda, per esempio, la raccolta dei rifiuti per strada, no? Se sei stato sensibile sin da bambino, cioè sensibilizzato sin da bambino, allora è possibile che io ti possa presentare il tema e renderlo ancora più presente all'interno della tua persona, altrimenti no. Quindi noi stiamo cercando fondamentalmente di attivare quelle persone che sono già sensibili al tema e dirgli, guarda che per questa cosa purtroppo adesso bisogna attivarsi in questo modo. Fare proteste, fare azioni. Non ci interessa sensibilizzare chi non è sensibile perché purtroppo non è possibile. Cioè dal punto di vista della psicologia sociale purtroppo non è possibile. Poi magari ci sono le eccezioni. No, chiaro, chiaro. Il problema è che se ci mettiamo a sensibilizzare adesso i bambini, ad esempio, come dicevi tu, quei cinque anni non bastano. Perché dicevi cinque anni prima che. E quello è il problema. Cioè naturalmente se ci fosse tanto tempo mica ci metteremmo per strada a prendere le denunce. Cioè io ho il terrore di andare in galera e rischio di andare in galera. Però purtroppo la situazione è quella. La paura di un non futuro è più forte della paura di andare in galera qui da questo punto. Più che altro mi fa molto paura questa cosa che stiamo già perdendo il controllo. È uscito un articolo su Nature qualche giorno fa, no su Bioscience, che dice che gli eventi estremi sono stati molto più forti e molto più frequenti di quello che si aspettavano i scienziati. Anche gli scienziati sono comunque increduli. E che i mari si stanno riscaldando molto più velocemente. Mari più caldi, oceani più caldi vuol dire più eventi estremi come tornadi, nubi fragi, mareggia. Cioè questa è la situazione. Ne stiamo veramente perdendo il controllo. E poi la povertà mi fa paura. Perché questa gente qui è la gente che ci dirà che se non abbiamo guadagnato abbastanza è colpa nostra. Perché noi viviamo un sistema meritocratico, secondo loro. Capito? E quindi se non guadagneremo abbastanza, se non avremo il modo di sopravvivere, è colpa nostra. Ci colpevolizzano in qualsiasi caso. E quindi avrò paura del fatto che questi qua, così come non stanno dando i soldi nelle Marche, in Emilia Romagna, in Toscana, per salvare queste persone che si ritrovano in questa situazione, è per colpa loro. Perché Eni sapeva dagli anni 70 che saremmo arrivati a questo. Se lo sa Eni, che è una partecipata statale, lo sapevano anche i governi. Stiamo parlando dei governi dagli anni 80. Berlusconi, Craxi, Prodi. Cioè, tutti si sono passati per questa cosa e tutti se ne sono ampiamente fregati. E queste persone stanno perdendo la loro casa, hanno perso i loro cari. Cioè, c'è questa storia drammatica di questa signora che ha dovuto lasciare il marito nel letto perché non riusciva a portarlo al piano di sopra ed è morto affogato. Cioè, immaginati questa signora, che cosa si deve portare dentro. E queste persone nulla. Lasciate loro stesse da questi responsabili prepotenti che a questo punto non danno neanche una lira. Questa è l'assurdità in questo momento. A noi ci portano in galera perché in questo momento ci sono 12 di noi in galera che aspettano un processo perdirettissimo. E invece questi qua, che sapevano tutto, continuano a fare sempre più solido. Con tu parli di questi qua, non è solo la politica, non è solo l'imperiettoria. No, non è solo la politica. Cioè, chi sono? Allora, Eni sapeva da molto tempo. Con Eni, però, sempre Eni è andata a prendere. Eh, ma perché Eni è comunque... Noi siamo il secondo investitore nel mondo in combustibili fossili. L'Italia. Però Eni è un banto dell'Italia nel mondo, appunto. Molti lo portano come un banto. Ma io, guarda, non ho niente contro Eni se prendesse le proprie responsabilità, ok? Se si prendesse le proprie responsabilità e tra l'altro mettesse gli extra profitti che ha fatto in una transizione energetica, ben venga Eni. L'unica cosa è che invece continuano a investire nei combustibili, continuiamo a investire nei combustibili fossili e Eni non ha nessuna intenzione di fare nessuna transizione energetica. Quello è il problema. Perché? Perché probabilmente hanno pensato, qual è il costo accettabile prima di cambiare? Un milione di persone morte? Centomila? Non lo sappiamo qual è il loro costo accettabile. Per adesso stanno già morendo le persone, le persone stanno già perdendo la casa e ancora non si muove nulla. C'è una parola che si usava tanto una volta, adesso si usa poco perché farsi paura, anzi ti danno dell'anacronistica usarla. Cioè, è il capitalismo il problema? È il liberismo, l'individualismo. Sì, sicuramente è quello. Cioè non c'è più il concetto del dobbiamo stare tutti bene. No, dobbiamo tutti essere in competizione. Non c'è mai stato questo concetto di me. Questo mi chiedo meglio. No, più o meno, comunque forse con la democrazia cristiana c'era ancora un po' questa idea un po' cattolica. Mi stai chiesto se stava meglio o se stava peggio? Questo mi stai dicendo? Ma purtroppo sì. Cioè, nel senso... Poi io e te l'abbiamo vissuta la democrazia cristiana, per fortuna. No, però io ho fatto un corso di giornalismo alla Statale con Paolo Colonnello e tra gli ospiti che erano venuti, il direttore del Corriere della Sera, era venuto anche il braccio destro di Berlusconi durante gli anni Ottanta sulla comunicazione. E questo qua ha detto che prima di Berlusconi gli italiani avevano come, diciamo, il tipico valore italiano era l'umiltà. Cioè, se eri ricco andavi in giro comunque con la 500, ok? Berlusconi ha avuto bisogno di importare in Italia la cultura americana dell'ostentazione. Perché? Perché le sue televisioni si basavano sulla pubblicità, i suoi guadagni si basavano sulla pubblicità e quindi aveva bisogno dell'uomo consumatore, ok? E quindi abbiamo iniziato a vedere la gente con l'orologio sopra la camicia. Però noi siamo, comunque, come cultura, noi abbiamo avuto Olivetti, ok? Cioè, persone come Olivetti ce le dimentichiamo. Sarebbe interessante capire cosa farebbe lui per la transizione ecologica, però, capire se questi personaggi sono così litigizzati che perché erano all'epoca. Olivetti aveva, nelle sue proposte di comunitarie, lui aveva preente pensato ad una sorta di ecovillaggi, no? Le comunità autonome e agricole. Cioè, quello era super interessante e quello sarebbe molto interessante da mettere in pratica. Perché noi dobbiamo ridurre un attimo anche le città, perché le città diventeranno veramente di fuoco, ok? Delle bolle di calore allucinante. Saranno invivibili. Ti ringrazio di aver citato le città, così ritorniamo un attimino a bomba invece su Milano. Dai, adesso con te è facile, ovviamente, andare a parlare di massimi sistemi, perché poi è quello. Cioè, siamo qui a parlare di cose che non si possono risolvere nella nostra piccola città e basta, ma bisogna risolvere a livello, ma neanche europeo, forse appunto mondiale, siamo a quei livelli. Però, insomma, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di alcuni temi caldi della nostra città. Poi anche rispondimi... Posso parlare dei trasporti? Sì, sì, ecco, non mi pare che dire, non me ne frega niente, oppure non ho un'idea. C'è anche quella, però, tra le domande. La prima che chiedo sempre, perché è una delle notizie che si trova più sui giornali ed è anche una delle più inutili che si trovano, è lo stadio di San Siro. Ah, quanto mi piacerebbe imbrattarlo lo stadio di San Siro. Ne avevo parlato anche con una persona molto importante, tra l'altro che nessuno si aspetterebbe. Lo stadio di San Siro, boh, non lo so. Cioè, a parte che per me non sono una tifosa, quindi so che è strano da una napoletana, ma non sono tifosa. Quindi, boh, cioè, è un pugno nell'occhio, orribile, come la maggior parte degli stadi. Non ne farei un altro, sinceramente, perché il dicimento già ne abbiamo abbastanza e, tra l'altro, comunque ha una sua storia, le persone gli sono affezionate, quindi eviterei, sinceramente, di farne un altro. Troppa chiacchiera. Troppa chiacchiera, infatti, va bene. Le piste ciclabili a Milano? Più che le piste ciclabili, il tema dei morti, sì, è terribile. Questa cosa è terribile perché a Milano, devo dire, che si guida un po' veloce, eh. Scusate, hai detto da una che arriva da Napoli, devi farci riflettere questa cosa, credo. Si guida un po' veloce, le persone sono molto stressate. E, boh, non lo so, è molto, cioè, io sono una ciclista, vado molto in bicicletta e quando sento di queste persone che muoiono in continuazione, un po' mi sale l'ansia, sinceramente. Ed è un peccato. E poi è troppo, cioè, anche per noi ciclisti, che comunque andare in città in bicicletta, con tutto questo smog, queste macchine, così, insomma, non è granché. Le Olimpiadi, 2026, Olimpiadi Milano-Cortina. Spero ci sia la neve. Spero anche quelle Olimpiadi, credo. Eh, sì. Stiamo avendo problemi con la neve, quindi. Boh, non lo so, cioè, le Olimpiadi avrei voluto che fossero più al sud, sinceramente, perché le Olimpiadi, come è stato per Barcellona, sono sempre un'occasione per per riqualificare. Ed è un peccato che non vengano fatte al sud, perché, dai, Milano ha già tante opportunità, diamone un po' anche al sud. E tra l'altro lo vuole anche l'Unione, cioè, lo vuole l'Unione Europea. Per l'Italia sarebbe ottimo che si riprendesse anche un po' il sud. Dai, un po' di... Una bella Olimpiadi invernale sul Gran Sasso d'Abruzzo, lo so, per male, ad esempio, è una roba interessante. Tanto la neve ormai non c'è da nessuna parte. Ah, fatti, no, puoi fare anche a Taormina, credo, ormai, in Olimpiadi invernali. Forse sta nevicando più giù che... Ultimamente può essere, in Puglia si vede ogni tanto imbiancate anche le spiagge. Il tema della sicurezza, Milano. Allora, io lavoro a Quartogiaro. Ok. La Mediaset sta amando fare questi bellissimi reportage sulla... Poi c'è su Berlusconi e su Entourage, non c'è più un sito. No, 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 io Mediaset la preferisco alla Sette. Ah, ok, pensate, sarà contento mentale, bene, finitiamo. No, no, Mediaset, cioè, è migliorata. Ah, ok. No, allora, devo dire che... Sì, però si sta molto puntando al tema della sicurezza, per spaventare un po' le persone, però in realtà è un peccato descrivere Milano in maniera così negativa. Cioè, nel senso che sicuramente magari è molto pericolosa per chi ha i dinè, chi ha molti soldi e quindi magari viene puntato. Però, perché in una grande città in cui c'è così tanta ricchezza, vengono anche le persone più povere e più determinate a non rimanere povere. E quindi, cioè, se noi vogliamo più sicurezza, in certi casi, forse dovremmo avere anche più equità sociale. Milano la trovi una città che si sta dimenticando gente dietro? Tantissimo. Prima non era così. C'è più l'è stato in questi sette anni? Sì, è cambiata tantissimo, devo dire. Cioè, sarà che ho cambiato anche quartiere? Nel senso che prima abitavo qui in Cutiotto e mi trovavo benissimo, adoravo stare qui. Invece adesso abito a Lambrate. Oh, diciamo, poveri quelli di Lambrate, adesso sanno che sono meno apprezzati di quelli di Cutiotto. No, vabbè, no, non per le persone, ma per il quartiere. Ok. No, è perché è molto più inquinato, è pesante, ma il problema è che... Ma sempre per amore ti sei spostata, giusto per capire. Sì. Ma tu smetti di seguire il cuore. Poi sono dato in consiglio di me, non seguire più il cuore, cioè eri in un paradiso Cutiotto. Adesso non me ne voglio gli amici di Lambrate, ma perché spostarsi solo per amore? Spostava lui era Cutiotto. Perché io ero in affitto e lui invece no. Forse non per amore. Le miserie della nostra vita poi si riducono a questo. Esatto, no, però il problema di Milano è questo, cioè anche persone che hanno uno stipendio decente, come quello degli insegnanti, io sono un insegnante, cioè siamo costretti a condividere. Sì, ma da dire che gli insegnanti hanno uno stipendio decente, tutti che si arrabbiano, tutti che dicono che ti sono pagati. No, vabbè, scusami, che dovremmo avere uno stipendio decente. Ecco, nel senso... Ci manca solo che ti fai amici a chiedere i sindacati della scuola e alla fine mi riammo. L'operaio, l'elettricista, l'insegnante, sono lavori dignitosi che dovrebbero avere uno stipendio adeguato a una vita dignitosa. Invece non è più così. E questo è... Ma anche persone che fanno un lavoro anche non... Più alto. Molto più alto. Fanno fatica a Milano. Cioè, Milano c'è questo tema, si fa fatica. Quindi mi chiedo veramente come facciano i giorni. Chiara lavora vicino alla Scala in una società di investimenti molto importante. Che cosa si può permettere un piccolo monolocale, bilocale a Porta Venezia? Ma porca miseria, non riesce neanche a comprarsi la casa e guadagna un sacco di soldi. Cioè, è allucinante. Quindi se non ce la fa quella che lavora a Finanza e abita in Porta Venezia, immaginiamo il portiere che abita in Piazza di Salute. Io insegno agli adulti. Questi poverini vengono dai quartieri più lontani possibile. Si fanno due ore ogni volta per arrivare al lavoro e poi sono quelli là che noi vogliamo criticare. Ma come ci permettiamo di criticare questi studenti? Insegni una scuola serale, insegni tu? Sì. Sicuramente va a cambiare il tuo nome, una scuola serale, non so. Vabbè, ci pia. Infatti immagino, però rimaniamo legati a questa romantica visione della scuola serale degli anni 70, dove appunto i lavoratori vanno. Chi sono i tuoi alunni? Eh, ho una varietà particolare. Cioè, nel senso che c'è l'elettricista cileno, c'è la donna delle pulizie del Bangladesh e poi ho gli ingegneri gestionali arabi, egiziani, il muratore egiziano, l'ingegnere gestionale indiano. Cioè, è veramente un mix e sono bellissimi, si vogliono un sacco di bene. Cioè, è proprio una bella classe, mi piace un sacco lavorare lì. Fate la gita di fine anno, fate anche insieme, oppure no? Beh, sicuramente adesso ho appoggio in varie parti del mondo. Ah, hai capito. Ecco il vero doppio figlio di Miriam Falco, è questo. Per fare il giro del mondo in 80 alunni potresti fare. Esatto, esatto, perfetto. Sì, sì. No, è proprio bello lavorare lì, vedi queste persone che comunque vogliono imparare, si mettono in gioco e naturalmente quelli più carini sono quelli più anche poveri. Ecco, nella nostra logica, proprio, loro sono i nostri carissimi milanesi, no? Cioè, sono quelli che hanno deciso di venire in questa città e stare alle regole di questa città, che ti mette di fronte a delle scelte ardue, non tutti riescono a rimanerci qua. Però lo fanno e lo fanno anche, appunto, impegnandosi e investendo su se stessi. Che città ti raccontano loro? Che città ti portano nelle tue aule? Allora, vabbè, a parte i poverini non riescono ancora a parlare benissimo. Quindi molto... Però fanno... Tipo... Vabbè, lavorano fino a tardi, arrivano distrutti. Quindi devo anche fare una lezione piuttosto animata per tenerli un po' su, così. E mi raccontano... Abbiamo fatto una verifica ieri sulle case, sulle case che hanno. E comunque, sì, vivono in questi posti lontanissimi, magari in tre, in quattro, in un bilocale, senza... Soltanto con un cucinotto. Cioè, situazioni comunque piuttosto... Bah, dignitose sicuramente, però comunque non belle. Cioè, nel senso che... Li vedi che non è che stanno proprio bene. La serenità è qualcosa di molto lontano, tu dici. Sì, sì. Però... Questo è Milano? O forse possiamo sperare una Milano migliore? Se si calmasse un attimo... Sì, è una tantissima ipotenzialità Milano. Se si calmasse un attimo? In che senso? Sì. In che senso interessante? Eh, perché... Boh, abbiamo... Cioè, è molto la città del... Non stare mai fermi. Cioè, più che altro... Ancora così? Non è solo uno storytelling da milanesi bruttito? No, cioè, nel senso è molto... Cioè, se vai per strada in bicicletta lo vedi. Cioè, lo vedi nelle persone come schizzano con le macchine, come si sta alla guida, come si attraversa. Cioè, vivendosi le strade forse si capisce molto di più questa cosa. Però, cioè, sì, per spiegarlo meglio, per non dire frasi fatte, si sta anche molto soli a Milano. Cioè, tutte le persone che conosco, milanesi e non milanesi, quello che dicono è, io, cioè, mi sento solo a Milano. Nonostante, comunque, i nostri rapporti ce li abbiamo, eh. Però, non so, non si sente un senso di comunità, forse perché non si vivono molto i quartieri, non c'è un centro, ognuno per uscire si fa mezza città, poi di là, di qua, e poi esci e poi non c'è posto dentro il... il posto dove volevi andare, che volevi fare. Tu William ti senti sola a Milano? Io non mi sento sola, perché, comunque, ho le mie cose, sono tutta proiettata su... il mio progetto, i miei vari progetti, tutto quanto, però, se non avessi i miei progetti, forse un po' sola mi sentirei, perché, comunque, vengo da una città in cui vivo in centro, è una città in cui... Si può essere soli a Napoli, no? Impossibile. No. Perché se cammini per strada, comunque, c'è qualcuno che ti parla. No, è diverso, è diverso, sì. Cioè, tutte le persone che ho portato a Napoli, effettivamente, di Milano, mi hanno detto che era strano per loro uscire in due, e poi ritrovarsi in dieci. Confermo, confermo, confermo. Sei girata poi insieme a Napoletania, qualcosa dire? Un'esperienza? Altro che le nostre experience, con la roba di... Poi, naturalmente, ai suoi lati negativi, io non ci tornerei mai a vivere. Perché è diventata proprio una Disneyland, del Natale, però... Ma raduno tutto l'anno, e poi c'è il periodo natalizio, così funziona. Ok, perfetto. Terribile. Cosa dicono a proposito giù, i parenti di giù, come si dice in questi casi, cosa dicono della tua carriera ad attivista e non? Eh, vabbè... Vabbè... Diciamo che ce l'aspettavo. Come l'hanno presa in famiglia, diciamo così? Allora, vabbè, hanno paura, cioè, quando sanno che sono sotto processo... È abbastanza comprensibile. Stanno male. Però devo dire che quando vado in televisione, poi forse un po' gli passa, non lo so, forse il fatto che vado in televisione un po' li ringalluzzisce, non lo so, e quindi magari riesco a tenere basse le ansie con questa cosa, però in realtà sono specchi per le allodole. Come si fa a bilanciare, ma l'hai detto giusto adesso, c'è la pura del processo, però poi vado in televisione tutti contenti, no? Eh, eh. Come si fa a bilanciare, soprattutto in un momento in cui siamo sovraesposti, in cui i social possono farci dire quello che vogliamo, cioè quello che vogliono loro, anche se noi non l'abbiamo detto, a bilanciare l'immagine di Miriam Falco singola e il contenuto che invece passa, il messaggio che passi, non è una cosa semplice, no? Cioè si dice che si parli di più del fatto che tu litighi con Cruciani piuttosto di quello che vi siete detti. Ah, ok. È questo il tema. Ma Cruciani mi persegui da questa cosa. Ma per l'altro tu, è solo per quello che ho detto altri. Sì, sì, no. C'è qui l'articolo del... Aspetta, io ringrazio tanto Irene. C'è qui l'articolo del... Mamma mia, non riesco a leggere. Maggio 2023, dove a Tagadà hai creato il panico, tra parentesi, sembrerebbe secondo i giornalisti. Infatti perché hai detto stai zitto a Jubilee? No, non ho detto stai zitto. Così ci scrivo qua, eh? Sì, sì, no, lo so, lo so. Ecco, grazie alla regia che ci lo facciamo vedere. Prima di tutto, vabbè, non capito come si possa creare il panico anche se tu avessi detto di dire no, solo stai zitto. Cioè, nel senso, forse avremmo solo abituati a vedere una donna di restare zitto o un uomo. No, ma questi sono i titoli clickbait. Ecco, però è questo. Infatti, però è questo. Però tu, in questo momento, in rete sei anche questa roba qua. Sì. Sei più questa roba, sei più quell'altra. Come si riesce a bilanciare appunto l'immagine e invece il contenuto del messaggio che passi? Allora, ma secondo me dipende dalle persone quello che vogliono accogliere in alcuni casi. Nel senso che ci sono i miei amici che mi dicono ah, fico, brava, sono con voi, brava, sono con voi, così, e altri che invece mi incontrano e dicono ah, ma tu sei Miriam Falco, eh, sei l'unica che ha tenuto testa a Cruciani, così. Dipende dalla persona, persona a persona. Cioè, io, boh, quando vedo queste cose non neanche mi riconosco. Non so, cioè, boh, è come se non vedessi me stessa. È strano. Cioè, in questo titolo sono uscita a mettere l'ecoattivista che non ti piace come boh, poi, a creare il panico che mi dici non l'ho fatto. Stai zitto, tra virgolette, che non hai detto? Vabbè, quando mi arrabbio, mi arrabbio. volevo dire. E su, tu hai fatto rissa, secondo loro? Devono, devono dirlo. Cioè, nel senso, noi abbiamo imparato anche a, a dire, ok, meglio che se ne parli piuttosto che no. Cioè, in qualsiasi modo se ne parla, però, meglio che non se ne parla. Cioè, tu non è proprio che appunto diventi più importante Miriam Falco piuttosto che il, oppure quello che vuoi, non lo so, magari dici, sì, è quello che voglio, diventare più importante io del messaggio che mi porto. No, ma siamo in tanti portavoce, ognuno ha lo stesso trattamento, identico, identico, preciso, quindi, no. Poi, così, poi siamo tutti fuochi di paglia, nel senso che, così come hai il tuo momento di, di celebrità, così poi, in questo mondo che va così super rapido e ci siamo già dimenticati i morti che ci sono stati in Emilia Romagna perché ci sono stati quelli in Toscana e, cioè, abbiamo, siamo over, cioè, veramente troppo pollution, troppe notizie e quindi poi questo trova il tempo che trova, cioè, non mi preoccupa questo. Però rimarrà ultima generazione, di quello se ne sono sicura, anzi, stiamo facendo anche quella Feltrinelli, la Fondazione Feltrinelli, stiamo raccogliendo varie testimonianze perché ci vogliono mettere nell'archivio storico e questo, secondo me, è molto interessante, nel senso che comunque riuscire a a creare comunque un archivio su quello che stiamo facendo e che possa poi essere trasmesso dopo, cioè, mi fa pensare, ok, pure se mi sto mangiando il mio futuro e la mia libertà perché disco di andare in galera, però, almeno ho il pensiero che questa cosa poi magari potrà essere un mattoncino per una società migliore poi. Chiarissimo. Miriam, mi ti ringrazio, stiamo chiudendo, ti chiedo, come diceva qualcuno più bravo di me, che cosa non ti ho chiesto che avrei dovuto chiederti invece? Boh, non avevo grandi aspettative. Non aveva grandi aspettative su un direttore RANFI, giustamente, grazie, non la giustina. No, nel senso, no, mi va benissimo tutto quello che è stato chiesto. Ci siamo dimenticati qualcosa? No, vi invito tutti a partecipare alla protesta che si farà il 16 dicembre a Roma o a firmare le nostre posizioni per un fondo di riparazione di 20 miliardi di euro per le persone danneggiate dalla crisi climatica perché altrimenti nessuno ci aiuta. Perfetto, allora io ti ringrazio, Miriam, davvero, grazie mille per essere qui con noi, grazie anche ai miei carissimi milanesi che ci hanno seguito, noi ci vediamo e ci sentiamo alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.